Come spesso accade nel nostro Paese, vincitori e vinti dichiarano di aver avuto la meglio, a volte anche a dispetto di una corretta lettura dei provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria competente. In realtà i magistrati del Consiglio di Stato hanno esaminato il ricorso con cui il Consorzio ASI ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza del Tar del Lazio, che sostanzialmente dava il via libera alla realizzazione dell'impianto. Ebbene, il Consiglio di Stato ha accolto dall'istanza cautelare senza entrare nel merito della questione, ma fissando l'udienza pubblica per il prossimo 19 dicembre. Sarà in quella sede che i legali del Consorzio e dell'autorità di sistema portuale dell'Adriarico Meridionale dovranno far vadere le proprie ragioni. Oggetto del contendere, come è noto, è la distanza che dovrebbe intercorrere dal confine del nuovo insediamento ai fasci di binari che collegano le banchine del porto alla rete nazionale. Secondo Edison e l'ente portuale bastano 5 metri, mentre per i del Consorzio ASI lo stesso si richiama alle leggi vigenti e stabilisce il 30 metri il limite minimo. Ebbene, i giudici del Tar del Lazio accolse il ricorso dell'autorità portuale dichiarando inefficace il parere negativo dell'ASI, giustificando il tutto con una sostanziale incompetenza del Consorzio. Il tutto nonostante lo stesso sia stato invitato formalmente ad esprimere un parere nell'ambito della conferenza dei servizi. Insomma, nell'udienza del Consiglio di Stato ci sarà parecchio da discutere e nel frattempo dovrà rimanere tutto fermo, il che significa che nessuno potrà dare per scontato che alla fine il deposito di GNL si farà. Brindisi infatti ha bisogno di certezze, visto che della politica degli annunci ormai se ne è fatto a largo uso.